Se fino a qualche settimana fa parlavamo di emergenza numerica per quanto concerne il reparto offensivo biancazzurro, ora mister Taurino vanta addirittura l'imbarazzo della scelta su chi schierare in attacco contro la Turris. Magliorino è chiaramente certo di una maglia da titolare, ma chi avrà l'onere di affiancarlo domenica pomeriggio? Contro il Picerno, nonostante i numerosi rientri, il tecnico del Villa ha giustamente voluto dare fiducia al giovane Ecuban, reduce da un gran periodo di forma. Il ganese è uscito acciaccato dal Viviani in seguito ad uno scontro che lo ha portato ad infortunarsi alla spalla destra. Nulla di grave, ma potrebbe essere il momento giusto per schierare dal primo minuto Ventola, che tra l'altro è un ex, se non fosse per Capitano Leo Perez. Il numero 10 biancazzurro è desideroso di riscatto dopo un avvio di stagione sotto tono e contro la Turris ha la possibilità di riprendere per mano la sua squadra, a caccia di continuità preziosa in ottica classifica.